buongiorno sono francesca vitolo addetto tecnico commerciale team ac agro italia area appennino sud oggi ci troviamo in ispinia territorio vocato per la produzione di nocciole e castagne e vigneti per uva da vino siamo in noccioleto nel comune di avellino il nocciolo è una pianta caratterizzata da notevole rusticità poiché si adatta a zone pedoclimatiche differenti l'importante è avere terreni piuttosto sciolti che evitano ristagni per evitare fenomeni di asfissia radicale e marciumi le varietà più sviluppate in ispinia sono la mortarella la san giovanni la tonda di avellino e la camponica in ispinia abbiamo riproposto il concetto di concimazione frazionata in due momenti concimazione autunnale in cui abbiamo distribuito il prodotto feoscore della gamma feosol una tecnologia che consente la valorizzazione della sostanza organica attraverso l'attivazione dei microrganismi nel suolo presenti e poi una concimazione di produzione nel periodo di febbraio marzo con il prodotto tima sprint della gamma tb organo minerale che ha al suo interno al top fosso un fosforo brevettato timac agro che consente la non retrogradazione e pertanto la disponibilità per tutto il ciclo culturale dalla ripresa vegetativa abbiamo effettuato tre passaggi fogliari il primo col nostro prodotto Fertiactil GZ contenente glicina betaina e zeatina che consente anche di superare più facilmente le condizioni pedoclimatiche avverse relative al primo periodo della coltura successivamente abbiamo utilizzato il nostro prodotto FertiLider Vital e dopo circa 15 giorni il FertiLider Magical per consentire l'assorbimento immediato e così massimizzare le rese buon raccolto a tutti